ma arrivo affetto arrivo arrivo si salve la sto chiamando per un'offerta no guardi non mi interessa è stato selezionato fra mille concorrenti no guardi non mi interessa e poi c'era una monta in bike con i cambiamenti c'ho tutto c'ho ogni cosa allora lei ha detto si no no io non ho detto nulla accettato no chi io no 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 io ho detto si eh io ho detto no 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 non cominciamo a tutto per me non mi interessa io ma lei no io cosa alla vodafone no non ce l'ho il telefono non ce l'ho perché non tu passi alla wind ma non usi il cellulare capito non è per cattivare è un uso ti fa un contratto io se ti trovi meglio ma non mi interessa ma non mi interessa ma non mi interessa so se tu usi internet che ci vai su internet l'usa ma non l'uso non l'uso proprio non l'uso proprio di modo non l'uso capito una terassa d'acqua di Ediboni ti interessa ti fa un contratto ti fa un prezzo buono non saprei che fare non saprei che fare non so che hai fatto allora guardi ha chiamato lei eh mi senti che vuoi che ma guardi che ha chiamato lei io voglio un un abbonamento allo stadio c'ho ogni cosa c'ho tutto ma poi no e senti che sono ragia cinghiale c'ho da fare ora si decida è stato scelto fa più di mille ragazzi la richiamo io se un domani lei signor bellini è signor bellini vero no ma guarda ha sbagliato numero eh ha sbagliato ha sbagliato non sono io sono io quello che sta cercando ha sbagliato numero c'è un'altra persona io c'ho da fare c'ho da fare una riattaccia tu siete si bellini tu siete si ma questo numero a lei che gliel'ha dato l'ho preso d'allenco che gliel'ha dato a lei il numero l'ho preso d'allenco telefonino no ma guarda un set di roccantini no ma non davvero guardi per cane se tu c'hai i cane non è mia per cattiveria capito non ce l'ho erano roccantini degli buoni ma non ce l'ho i cane 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 perché un po' so allora fai i cazzo se ci fa fai i cazzo ma neanche i gatto non c'ho neanche i gatto capito se vuole prendere un appuntamento e panarne di persona se ne parla a quattro occhi capito c'ho la minestra c'ho la minestra sui foo mi brucia mi brucia la minestra senza io devo e ora attaccare un discardamento che l'hai a metano ancora oggi no no c'ho la stufa c'ho il cammino io via c'ho la GPL mani c'ho da fare la pazzia eh c'ho da fare scusa 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 vaffanacculo vaffanacculo